E' decollato nella Sala degli Ulivi della nuova ala est dell'aeroporto Karolwetila di Bari, alle ore 9.30 in punto di questa mattina, il quindicesimo workshop Tour Operator e Vettori incontrano il trade. Organizzato da Aeroporti di Puglia, il workshop di oggi è un'occasione interessante di incontro ed approfondimento per chi opera nel settore del turismo e per i vettori che operano sugli scali pugliesi, oltre a Fievet Puglia e Denti del Turismo. In seguito alla conferenza stampa, in occasione della quale è stato presentato il nuovo metodo di prenotazione Revolution, un ricco buffet, abbellito da arredi e grafiche modernamente pugliesi, ha reso ancora più conviviale e piacevole l'atmosfera, per poi proseguire con gli incontri commerciali nella speranza di nuovi e profiqui accordi e relazioni, vero motore di questa giornata. Per essere aggiornato sui prossimi eventi workshop visita il sito www.aeroportidipuglia.it www.aeroportidipuglia.it www.aeroportidipuglia.it